Mauro Meli, direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, ha scritto La musica al rovescio, un insieme di racconti, un grande racconto del teatro, ma dal dietro le quinte. Non è un libro tecnico, perché Maestro ha scelto di scrivere un racconto così, sentito, più di emozione? Sì, effettivamente è un libro dove cerco di raccontare la mia passione per il teatro, per il teatro dell'opera, per la musica, e cerco di raccontarlo agli amici con, come dire, la velleità di farli divertire, e cerco di raccontarlo ai ragazzi, cercando di dirgli provateci, provateci con serietà, con determinazione, ma anche col sorriso. E se avete fortuna, se ce la mettete tutta, ce la potete fare. Per raccontare il teatro, lei ha scelto di raccontare molte storie, quelle dei suoi grandi incontri, e ci sono grandissimi nomi, da Abbao, la filarmonica di Vienna, Pavarotti, Sting, Benigni, Larry Masel. Qual è stato, tra tutti questi incontri, quello che è la più incantata, arricchita, quella che è la più meravigliata? Gli incontri che mi hanno arricchito, ma più che meravigliato, mi hanno formato, oltre che incantato, sono sicuramente due, sono quelli che io considero il mio maestro, Alberto Pons, che è stato il mio insegnante di chitarra, col quale ho imparato la musica, ecco, e Claudio Abbao, col quale ho imparato il mio mestiere. Da poco a Cagliari si è concluso un festival internazionale di letteratura, dove grandi pensatori, filosofi, scrittori di tutto il mondo si sono chiesti quale fosse la via per la felicità, se la fortuna o la virtù, intesa come l'impegno. Lei già a 30 anni dirigeva grandissimi eventi a fianco di nomi eccezionali. Quanto deve alla fortuna e quanto alla virtù? Sicuramente tanto alla fortuna, perché tanti di quegli incontri che racconto nel libro sono dovuti a circostanze straordinarie o magiche, o comunque appunto fortunate, però è certo che la fortuna va conservata con l'impegno, con il lavoro, con la dedizione, con la determinazione e con la passione. Ci ha regalato spettacoli, devo dire, strepitosi, grandissimi sogni, magie. Quale è ancora per lei un sogno da realizzare? Ma se devo essere sincero, il sogno di vedere in questo momento la musica un po' più sostenuta e non bistrattata, la musica più fruita, la musica più seguita e i teatri un po' più frequentati dai ragazzi. Grazie. 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 Grazie.